Che cosa succede a Roma? Più precisamente, che sta succedendo dentro la Chiesa Cattolica? Se siete confusi dal crescente caos, allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo aiutarvi a capire cosa sta succedendo nella Chiesa, per non perdere la fede, ma anzi irrobustirla, e per farvi voi stessi propagatori della verità. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Un caloroso benvenuto a chi si è iscritto nell'ultima settimana. Se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo. Vi invito anche a mettere un like su questo video e a condividerlo con i vostri amici, i vostri contatti. Aiutatemi, per favore, a informare il maggior numero possibile di persone su cosa sta succedendo nella Chiesa. L'avvenimento più commentato dell'ultima settimana qui a Roma è stato senz'altro la pubblicazione di un altro libro intervista di Papa Francesco dal titolo Il successore, curato dal giornalista spagnolo Javier Martínez Brocal. E' pubblicato per ora solo in Spagna, ma già oggetto di notizie e di commenti in tutto il mondo. Nel libro il Papa fa rivelazioni sorprendenti che destano preoccupazioni in molti conoscitori della vita e dell'istoria della Chiesa. Per esempio, fa rivelazioni inedite sulle ultime due conclavi. Ricordiamo che, entrando nel conclave, i partecipanti fanno una promessa subgrave, cioè sotto pena di peccato mortale, di mantenere il secreto su quanto succede a porte chiuse. Appunto, perciò si chiama conclave, conchiave, cioè a porte chiuse. Sibbene si sappia che il Papa si trova sopra il secreto vinculante sui conclavi, non ne sfugge a nessuno che mai, mai, un Papa abbia rivelato il retroscena di un conclave, come fa Francesco parlando con il giornalista spagnolo. Si specula molto sulla abbondanza di interviste che concede Francesco, sul perché vuole così frequentemente affidare a giornalisti, e per di più spesso di sinistra, opinioni e notizie che immediatamente trovano grande eco mediatica. Alcuni credono di capire che il Papa avverte la brevità del tempo che gli rimane, per cui vuole impiegare questo mezzo al fine di stabilire una narrativa del suo pontificato che giustifichi le sue scelte e confutte allo stesso tempo i suoi critici. L'istorico della Chiesa, il professor Giovanni Maria Vian, anche un noto giornalista, è stato per undice anni, se non mi inganno, direttore dell'Osservatore Romano, cioè dell'organo ufficioso della Santa Sede, il professor Vian vede in questo modus operandi del Papa Francesco un rischio e ricorda che già dalla prima intervista concesa da un Papa, alione XIII alla fine del secolo XIX, già queste interviste hanno sempre suscitato polemiche che hanno costretto la Santa Sede a pubblicare precisazioni. Dice il professor Vian, e cito fra virgolette, In Francesco c'è senza dubbio una grande innovazione comunicativa. Bergoglio parla con libertà di tutto, pure dei conclavi. Ciò dipende dalla sua indole, certamente, ma risponde anche a una strategia comunicativa. Francesco ha la capacità di parlare in modo semplice e senza veli, e lo fa per arrivare a tutti. D'altra parte, è assai diverso dai suoi predecessori, più abituati alle scritture. Mentre i suoi predecessori erano più attenti e preparavano i loro testi scritti, Bergoglio preferisce invece l'improvvisazione e l'intervista. E qui finisce la citazione di Gian Maria, Giovanni Maria Vian. Così facendo, Francesco ha sconvolto il sistema di comunicazione della Chiesa, e sempre Vian che parla fra virgolette. In Vaticano c'è un'enorme struttura comunicativa, molto ben organizzata, ma Francesco tende il più delle volte a prescinderne. Per il professor Vian, un esperto vaticanista, cioè un esperto osservatore delle realtà del Vaticano, i rischi delle frequenti improvvisazioni giornalistiche, a differenza dell'uso normale del precedente pontefice dei documenti scritti e quindi ben calibrati, sono principalmente due. I rischi La saturazione e la contraddizione La saturazione rende banali, agli occhi dell'opinione pubblica, le idee troppo ripetute di qualsiasi personaggio, pursi autorevole. D'altronde, sempre secondo Vian, fare rivelazione sui conclavi, virgolette, desacralizza un momento solenne come la scelta del vicario di Cristo, chiudo virgolette. D'altra parte, sempre secondo il professor Vian, c'è il problema delle contraddizioni, E qui si riferisce chiaramente alle frequente contraddizioni in cui è in corso Papa Francesco. Un caso che ha suscitato perplessità, anzi incredulità da parte di tanti, lo rivela proprio il libro appena apparso e che sto commentando. Papa Francesco narra che, trovandosi provato dalle critiche interne ricevute nella Chiesa, quando sostenne pubblicamente l'unione civile delle coppie omosessuali, incontrò sollievo nell'appoggio che le avrebbe manifestato il suo predecessore, Benedetto XVI, in una conversazione privata. Ora, Benedetto XVI, scusate la banalità, ma è la stessa persona di quel cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che rilasciò un documento ufficiale del Magistero della Chiesa, approvato esplicitamente da Papa Giovanni Paolo II, in cui afferma che, virgolette, tutti i fedeli sono tenuti ad opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, chiudo virgolette, e questo è un documento ufficiale del Magistero della Chiesa. Ma è possibile per noi, semplici mortali, trovare la quadratura di questo cerchio? È possibile non rimanere confuse? Non è che Francesco abbia confuso un mero sorriso educato e compassionevole, noi sappiamo quanto Benedetto XVI fosse mite e beneducato? Non è possibile che Francesco abbia confuso un sorriso con un'improbabile approvazione della sua dichiarazione in favore delle unioni civili omosessuali? Difficile pensare che un intellettuale del calibro di Benedetto XVI abbia potuto sostenere due posizioni diametralmente opposte su un tema così importante. Certo, oggi tutto è diverso, succedono delle cose che non erano mai successe. I fedeli prima erano abituati a vedere nel Vaticano la Catedra di Pietro, cioè la Catedra della Verità. In questo pontificato, invece, i fedeli sono stati disorientati con dichiarazioni contraddittorie. Un esempio fra tutti. Nel 2023 la Santa Sede, attraverso la dichiarazione Fiducia Supplicans, approvava le benedizioni sacerdotali alle coppie omosessuali, dopo averle condannate severamente nel 2021, con un altro documento ufficiali emanato dallo stesso De Castero Vaticano. E, guarda caso, entrambi i documenti, a distanza di due anni, contano con la nota di approvazione di Papa Francesco. Mai si era richiesta alla ragione umana e alla fede un'adesione così incondizionata a un Papa, anche nella contraddizione. A chi dobbiamo obbedire? Dobbiamo obbedire al Francesco del 2021, che dice che non si può benedire le coppie omosessuali, o dobbiamo obbedire al Francesco del 2023, che dice che sì, si possono benedire queste coppie. Vediamo, cari amici, un altro tema che sta agitando i salotti romani in queste settimane. Ma prima non dimenticate di dare un like a questo video, non dimenticate di iscrivervi in questo canale. Mentre Francesco cerca di tessere tramite interviste giornalistiche una sua narrativa del proprio pontificato, molti analisti hanno già la mente, non tanto negli anni trascorsi, quanto in quelli venturi, cioè stanno guardando già al futuro. Il noto vaticanista Jean-Marie Guenois, del più grande quotidiano francese Le Figaro, ci parla di alti esponenti del Vaticano che in modo unanime mi hanno confidato. E tutto questo è fra virgolette. Quindi alti esponenti del Vaticano che in modo unanime hanno confidato. Tutto fra virgolette. Che la domanda numero uno non è chi potrebbe succedere a una personalità così forte come Francesco, ma come potrà ripristinare l'unità di una Chiesa che ora è profondamente divisa. Questo lo sentiamo dire da tutte le parti. Chiude virgolette. Quindi, sempre più persone, e qui parla di alti esponenti del Vaticano, sì, si stanno chiedendo chi sarà il successore di Papa Francesco, ma soprattutto si stanno chiedendo lui riuscirà a ripristinare l'unità della Chiesa. Guenois si estende anche su rivelazione fateli sempre da altri personaggi della Chiesa, che lui non cita per nome, ma si capisce che sono persone della Curia, anche cardinali, circa la pessima forma, e questa è la sua espressione, la pessima forma delle finanze vaticane, soprattutto per il calo delle donazioni americane e tedesche. e conclude, virgolette, con l'eloquente esternazione di un cardinale molto preoccupato che chiede senza mezzi termini. Ma la Chiesa ancora crede in qualcosa? Diversi vaticanisti vedono un forte desiderio di Francesco di lasciare una Chiesa plasmata secondo la sua volontà di riforme, mentre si rende ovvio anche ai più vicini l'indebolimento della sua salute e quindi la necessità di pensare a un successore che garantisca l'unità della Chiesa minacciata da una rottura specialmente dopo la pubblicazione della fiducia supplicans. Commenta a riguardo René Guenois, virgolette, l'anno 2024, un decimo anno di pontificato inizia per Francesco in modo doloroso. La sua salute sta peggiorando, ma il suo desiderio di guidare le riforme nella Chiesa è più forte che mai. Il via libera alle benedizioni delle coppie omosessuali dello stesso sesso ha scatenato una spaccatura nella Chiesa. Molti, compresi i più vicini, pensano ora alla sua successione. Da più parte, però, i fedeli hanno già cominciato a pregare per chiedere allo Espirito Santo, la cui Pentecoste celebreremo fra qualche settimana, di intervenire in modo chiaro e deciso. sibbene noi sappiamo che qualsiasi mossa della grazia, quindi qualsiasi spinta dello Spirito Santo, dipende poi dall'accettazione o meno da parte della persona, sappiamo anche, come dice il Salmo, non est qui si abscondat a calore eius. Quando Dio vuole, nulla si può nascondere al suo calore. rimaniamo quindi, cari amici, saldi nella fede e proclamiamo ancora una volta che Cristo è risorto e risorto per sempre. Cari amici, chiudendo, non dimenticare di mettere un like su questo video e di condividerlo con i vostri amici. Aiutatemi per far crescere questo canale affinché un maggior numero di persone possa essere puntualmente informata su cosa sta succedendo a Roma. E noi ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre qui nel canale Visto da Roma. Arrivederci.